In concomitanza al corteo che si sta sviluppando per le vie del centro in nome della pace, qui in Piazza Europa la comunità ucraina si è ritrovata e le note che state ascoltando sono quelle di una canzone per onorare tutte le vittime della guerra, non solo quelle ucraine ma tutti i morti di questo assurdo conflitto. A un anno esatto dall'inizio della guerra, oggi tutta la comunità ucraina spezzina si ritrova qua per chiedere la pace ma anche per lanciare un messaggio di resistenza verso l'aggressione. Sì è così ma anche comunque per dare un ultimo saluto a tutte le persone innocenti che sono morti in questa terribile guerra che non doveva mai succedere più che altro nel 2023 ormai e che dura già da un anno. Volevo ringraziare lo Stato italiano per il sostegno che dà al popolo ucraino soprattutto con profughi della guerra, ringraziare per tutto. Grazie Italia, grazie Emilia perché date casa per i nostri rifugiati, non lasciate fuori, non lasciate fame, grazie, grazie da cuore. Avete lasciato i vostri uomini, i vostri mariti, i vostri fratelli a combattere in Ucraina? Certo, tantissimi comunque quelli che erano anche in giro per il mondo, che vivevano ormai, erano già residenti nell'altra città, sono tornati per la propria volontà, per difendere la nostra terra, perché loro vorrebbero dare una vita, un futuro a tutti noi, agli ucraini. Di fronte alle parole di Putin che dice sarà guerra d'oltranza, qual è la vostra risposta? Io a queste parole posso rispondere solo con le parole di un nostro militare che da Isola Zmijini, che ha mandato proprio in quelli paesi, però questo non si dice. Comunque il popolo ucraino non si ingegnerà mai davanti a nemico.